La settimana si può mangiare la pizza, si può sgarrare, diciamo, no? Nelle diete. Si vuole la ventura, no? No, su un periodico di informazione, l'Oionio... Sgarra. E' straordinissimo. ...sullo Ionio, dove la canzone di Deodato è stata presa da chiunque, fidanzate, ex, Taranto, Liva... Ecco la prima pizza con, vedete, il fuoco, la legna non brucia. Non brucia, quindi non emette, non emette. Ci sono arrivati. Ecco l'Ucino sta mettendo la pizza nel forno spettro e lui, sopra, rapidamente...